Eccomi qua, dato che purtroppo YouTube non mi fa scrivere, né parlare né dire, parla di che cos'è la povertà. La povertà non è politica, come qualcuno può pensare o dire. La povertà non ha un colore politico, non deve avere un colore politico. Chi fece da mangiare persone italiane, anni fa, fece politica. Chi dà da mangiare per tutti e poi pensa di far parlare di politica, dovrebbe chiedere ai poveri che cos'è la povertà. La povertà è non arrivare a fine mese, la povertà è non avere possibilità di prendere tutti i propri aiuti. Questa è la povertà. Io so che cos'è la povertà. Non arrivare a fine mese, lo so. Perfattamente lo so, perché io se non ci fossero i miei genitori non arriverai a fine mese. Quindi posso chiamarmi povero, non ricco, ma non ho la dignità. Ma non mi permetterei mai di parlare al nome dei poveri, perché sono già povero. Grazie e arrivederci. Grazie.